Ciao a tutti, oggi prepareremo i muffin agli amaretti. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Ingredienti sono farina per dolci, amido di mais, zucchero semolato, amaretti sbriciolati, gocce di cioccolato, latte condensato, burro morbido, uova, latte intero, vanillina, lievito vanigliato per dolci, sale, zucchero a velo e amaretti per decorare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato. Chiudiamo con il coperchio il misturino e lo faccio volverizzare per 10 secondi a velocità 10. Rieniamo un po' sul fondo del boccale. Aggiungiamo il burro morbido. chiudiamo con il coperchio il misturino e azioniamo il bimbi per 2 minuti a velocità 5. prendiamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo il latte condensato. e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5. Aggiungiamo le uova e facciamo amalgamare per 2 minuti a velocità. 5. Aggiungiamo la farina per dolci. L'amido di mais. Il pizzico di sale. La vanillina. Il lievito per dolci. Gli amaretti sbriciolati. e il latte. Chiudiamo con il coperchio il misturino e azioniamo il bimbi per 2 minuti a velocità 5. Aggiungiamo le gocce di cioccolato. e facciamo amalgamare per 20 secondi con l'anti orario a velocità 3. Il composto è pronto. Trasferiamolo in un dispenser. Abbiamo preso una teglia per muffin. Abbiamo posizionato dei pirottini in carta. Adesso verseremo il composto in ogni pirottino. Adesso completiamo i muffin con gli amaretti sbriciolati. Adesso cuociamo a forno preriscaldato a 180 gradi in modalità statica per 20 minuti circa. I muffin agli amaretti sono cotti. Lasciamoli intiepidire prima di servirli. Muffin agli amaretti. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.